è originale no, è originale primo dalla Puglia verso il nord il secondo in Brasile se fanno maracchia e scurri nel Mediterraneo hanno chiuso il cielo vedete come gli viene per adesso e ha tutto l'affetto e sono affettuoso ma non lo sapevo che qua si sentiva prima ho detto delle cose ma l'ho fatta forza ma anch'io mentre c'eri tu ah si spero bene ma io però veramente tu se stai qua durante il pezzo lasciate andare si no, io adesso inizio stai con un centro scommesso ma ci pensi che abbiamo avuto questi posti viva, viva, viva spero che vi vado tutto bene e vediamo la stavoccerina locale qui, ho capito? ma non sono, perché non è che non sono io spero che tipo Bello ho girato bene ho girato bene le quadrature sembrano quelle di un altro tipo un dei migliori che ho visto in giro dopo trapaticando gli dariamo un orecchio la notte soon Ma c'è anche una canzone che ho chiuso da me a cire. Ma perché non mi metto un cazzo di su e mi metto nel tuo aspetto? Ma come sei? Io come sei? C'è da subito, mi scelgo in una macabina dove fumo. C'è, ti metto un cazzo di co di me, tu ti metti la pizzi, c'è un po' di su. E dove è il gusto? Non lo so, sarò senza il posto. Come stai? Ci parla nella tua aspetto. Chi è lì? Eh, la mia vicina di Maresti. Io c'andrò. Io personalmente sono già dentro. Però me lo devono regalare. Ma io pago, io al cinema lo sono pagato qua. Io non ho capito. Ma è made in sud? No, questo è l'ultimo. Fai in piccio leppi boni solo perché c'hai meoni. Fai in piccio leppi boni solo perché c'hai meoni. Ti avrai giù le meine, eh? Fai in piccio leppi boni solo perché c'hai meoni. Fai in piccio leppi boni solo perché c'hai meoni. Buongiorno. Ragazzi lo vedete nel tuo cuore. Ma no, secondo me stanno orando. Ma quale attrice impegnata ma quale presentatrice ha scontato questa curva. Fai la porna, triste!